cia confezionatrici italiane automatiche nasce in veneto a villa verla in provincia di vicenza benvenuti nella nostra sede il reparto sviluppo e ricerca ha dedicato ampi spazi al continuo miglioramento dei propri prodotti per renderli sempre più competitivi e attuali soddisfacendo le richieste dei vari clienti presenti in oltre 90 paesi produciamo una vasta gamma di macchine pesatrici confezionatrici dalle soluzioni più semplici a quelle più complete di accessori e funzionalità grazie alla lunga esperienza cia confezionatrici è riuscita a coniugare lo studio e la ricerca nell'innovazione tecnologica prestando attenzione e cura alle esigenze di ogni singolo cliente le nostre macchine confezionano una vasta gamma di prodotti come pasta caffè riso frutta secca legumi lieviti dolciumi farine e polveri pet food e molto altro anche del settore non alimentare ma la nostra storia inizia prima nel 1978 con la prestigiosa macchine per la pasta il marchio la prestigiosa si è presto affermato in tutto il mondo vendendo migliaia migliaia di macchine per pasta e ravioli linee complete e sistemi per pizza e pasta da sporto al timone dell'azienda c'è il lungimirante e creativo Giovanni Barbieri insieme al fedele amico e collaboratore Benito Revelin a cui si affiancheranno i figli Gianfranco e Antonella Barbieri sarà proprio il team la prestigiosa che alcuni anni dopo forte dell'esperienza maturata nel settore alimentare inizierà a progettare e realizzare le prime macchine confezionatrici a marchio CIA una storia fatta di passione valori e tradizioni dove oggi come allora si continuano a realizzare con dedizione amore e cura per i dettagli le nostre macchine soddisfacendo migliaia di clienti in tutto il mondo che amano e apprezzano la qualità made in Italy un ringraziamento a tutto lo staff CIA e a tutti coloro che hanno avuto fiducia in noi e continuano ad apprezzare i nostri prodotti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti